Sono molte le storie di uomini che in condizioni estreme hanno compiuto atti disumani per poter sopravvivere, ma il caso dello yacht Mignonette è davvero stupefacente. Lo yacht fu acquistato dall'avvocato australiano John Henry Wont nel 1883. Salpò da Southampton per Sydney il 19 maggio dell'anno successivo. L'equipaggio era formato dal capitano Tom Dudley e i marinai Edwin Stephan e Edmund Brooks e dal mozzo il diciassettenne Richard Parker. Agli inizi del mese di luglio, quando il Mignonette si trovava a 1600 miglia dal capo di Buona Speranza, le condizioni climatiche erano aperse. Il capitano Dudley cercò di fare in modo che la nave non subisse danni, ma un'onda anomala finì con il capovolgere lo yacht e ciò costrinse i quattro membri dell'equipaggio a mettersi in salvo su una scialuppa, mentre la nave colava miseramente a picco. La situazione fu tragica da principio. A bordo della scialuppa non c'erano viveri o attrezzature per pescare e riuscirono inizialmente a sfamarsi catturando una grossa tartaruga marina, ma ben presto fu chiaro a tutti che, per sopravvivere, avrebbero dovuto cedere agli istinti più primordiali. Mangiarsi a vicenda. Il capitano e il marinaio Stephan erano favorevoli a ciò e decisero che la vittima sacrificale sarebbe dovuta essere il mozzo Parker, in quanto senza famiglia e anche di salute cagionevole. Il momento fu ricordato da Edmund Brooks in questo memoriale. Il capitano quindi si chinò sul ragazzo dicendogli «Parker, è giunta la tua ora». «E perché?» rispose il povero giovane. Io con l'altro ci trascinammo dall'altro lato del battello, udì quindi un piccolo grido e svenni. Di lì a poco, aperti gli occhi, vidi Parker morto e scorsi il capitano e Stephan, che gli succhiavano il sangue da una ferita al collo. «Datemene una goccia!» gridai e lo bevi. Così dissetati, orribilmente ma dissetati, si sentì maggiormente la fame e il capitano spogliò quindi il cadavere e ne tolse il cuore e il fegato che ci dividemmo e in seguito mangiammo altre parti di quel corpo. Grazie a quel macabro e disumano espediente, i tre sopravvissero fino al 26 luglio, quando furono avvistati dal mercantile tedesco Montezuma all'arco delle coste di Elio de Janeiro. Per le loro azioni, Dudley e Stephan furono inizialmente condannati a morte dal tribunale di Londra, ma la loro pena, vista la gravità della situazione in cui la commisero, venne commutata in sei mesi di lavori forzati. La parte più strana della vicenda però accade tra il 1837 e il 1838, quando Edgar Allan Poe pubblicò il romanzo La storia di Arthur Gordon Pym, nella quale un gruppo di naufraghi su una zattera è costretto a ricorrere al cannibalismo per sopravvivere. La vittima, scelta dai naufraghi del romanzo, si chiamava Richard Parker.